Sono i padri delle batterie agli ioni di litio, i vincitori del Nobel per la chimica annunciati a Stoccolma. Si tratta dello statunitense Jod Goodenough, del britannico Stanley Wettingham e della giapponese Yoshino Akira. Con il loro lavoro hanno dato il via alla rivoluzione che ha miniaturizzato le batterie che alimentano i dispositivi che usiamo tutti i giorni, come i cellulari o i computer portatili e che ha reso possibile anche la diffusione di auto e scooter elettrici offrendo un'alternativa ai combustibili fossili.